Io non voglio fare un'astruzione Forza leggermente, forza leggermente Che sennò non posso... Eh no, che si è chiesto il pulmino con le cavie Stiamo dentro, quindi abbiamo aprito il ferro Forza leggermente Quando si armono i ladri non ci sono mai Io guardavo la fotografia e lo sparavo nel ferro Io invece no, purtroppo Quando si armono i ladri non ci sono mai E' una cosa di ferro E' una cosa di ferro E' una mia letta comunque, c'è queste cose E' una scena di 10 minuti Aspetta, aspetta, aspetta Serve per rinforzare un altro buco Aspetta, aspetta Voi prendere un marzello Marco Che bussiamo sul bel scotto Si è chiusa da sola con il davi sul col scotto Stiamo vicino eh Vai Fermanente Fermo un attimo 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 E' un oltre Sei murtolastico I genio Diabolica Ma invece deve che diarti giù Avete provato a dare un po' sul vetro? Infatti l'ho letto prima, si accendeva questo. Non mi vede, qua non ci avrebbero mai visto. Qua pure tra di due? Dai, io ando stai quasi. Ma dove va? A me, a me, a me, a me, a me! Non è un teccano, ha lo tipo di sabita. Io tu mi lascio spresa a te l'attrazione. Ho metterie? Ho metterie? Ho metterie? Ho metterie? Ho metterie, ho metterie? Ho metterie, ho metterie? Ho metterie? ma per te non vi amo perché sennò anche perché era per riprendere l'ombrella dentro è stato fatto il tentativo Marco tu potresti anche far vedere le tue abilità sono mica tanto grave no 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 non andiamo via poi poi tu apri no stiamo parlando di spagare il vesto un po' più... si non riduce benissimo troppo questi mari che voglio fare non so che vieni a fare ma non andiamo un po' dei colirondi esatto un po' di colirondi ah no per glirinare un po' le canna da te non le canna da te no so era lui so era lui devo maggiore presto a mangiare però pistoro Questa è un ingegno! Queste sono di quelle cose che quando si arriva a casa poi ci raccontano volentieri! Un ingegno! Dopo si porta i bambini! Luca ti ha prestato i paneloni! Poco! Hai tirato poco! Ferma un attimo! Però io lo posso tirare anche dopo! Facciamo così! Mi è piaciuto il primo! Un spettacolo motrice! Io ieri sulla corda tua! Spiliamo! Che cosa faccio? Spiliamo la corda! Che pure non si può spilare perché la corda non si può spilare! Russano ma chi ci vuole? Russano! E' anche le cose semplici! Però è stato meno semplici! Mi tengo la stecca io! Sa che ci vuole? Si mi sono ingrattata! Mi sono messi sulla bandetta! Mi sono messi sulla bandetta! Mi hanno messi! Ma come fanno i lavori una notte a fare tutta la via a aprire più? Eh non lo so! Da me sono arrivati fino al terzo piano! Con i filamenti senza progrini! Quella porta è chiusa sotto! Ma lui sono salati i bambini! Secondo me ti scendi più sotto Russano! No! 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 C'è un bustante che va a brunù! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Questa è la in mezzo! Non lo so! Non lo so! Vai! Ci sei! Qui là! Vai! Urca! Fare facile! Eh! Però mi sape no! Come do non mi sono giocati! Vai! No! Per quello che giochi senza frontiere! Non lo so! Non lo so! Ci siamo su quando il filruche! Vai! Eh! Quando è quelli... Sì! Tu devi abbassare un po'? Ritendiamo!